Io non posso comprendere come la politica che dice essere attenta in questo anno soprattutto bisogna cambiare i mezzi perché sennò qui si inquiniamo e cose varie benissimo e non si preoccupa dell'inquinamento fatto nello sfruttare la terra per produrre cibo 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 per riempire gli scaffali nei supermarcari, supermarcari, supermarcari. Noi qui a Cesenatico abbiamo a ridosso nella ferrovia abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 supermercati grossi non dichi nomi perché non gli voglio fare assolutamente la pubblicità 6 supermercati in un arco di un chilometro quadrato a schioppare. Quindi oggi scegli il tuo domani per un commercio sostenibile, scegli il piccolo commercio, il cuore della nostra amata Italia. Ciao! 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 Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna